Domani sera Palazzo Riggio ad Acicatena sarà teatro dell'evento musicale Cantando d'Amore. Lo spettacolo organizzato dall'Associazione Ruzione d'Arte mira a dar voce ai giovani talenti e vanterà la presenza di artisti ragguardevoli. Come ospiti avremo il duo Aci e Galatea rappresentati dal flautista Calogero Randazzo e dalla maestra pianista, nonché professoressa insegnante Anna Maria Gervasio. Avremo il piacere e l'onore di ospitare anche il tenore Orazio Monaco e il soprano Luana Belfiore che ci intratterranno con musica lirica, qualcosa di scherzoso di Rossini, un duetto scherzoso e altro. Vogliamo sempre rimarcare che l'obiettivo della nostra associazione è quello di rendere visibili i giovani talenti territoriali che sono tantissimi. Spesso li facciamo esibire magari facendoli supportare da artisti già affermati in modo che loro possano sentirsi anche confortati per quanto già sono abbastanza preparati e pronti ad affrontare un pubblico.